Intro Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, riaccoci qua con una nuova serie qua su EveryEye Io sono FlashTogether Oggi iniziamo il primo episodio delle squadre divertenti Allora, vi presenterò delle squadre, dei squad builder, dei squadre con cui mi sono davvero divertito molto Non ci sarà un prezzo stabilito, ci saranno squadre magari costose, ci saranno squadre meno costose e così via Allora, la prima squadra che vi faccio vedere è un 4-2-3-1, un modulo che personalmente mi piace molto Perché comunque sia è offensivo, è molto offensivo anzi, è davvero molto offensivo Sì, è un modulo che presenta magari defezioni per quanto riguarda la fase difensiva Però comunque davanti è tanta Robben Allora, importa chi abbiamo? In porta abbiamo Ter Stegen Ter Stegen è un giocatore che fondamentalmente non è che mi sia piaciuto molto Però credo sia dovuto più che altro al gioco C'è scritto, ho letto, che passeranno comunque i portieri E li faranno più bravi, più forti Comunque per 2.800 crediti che mi è costato Non è di certo un giocatore da buttare A sinistra abbiamo il buon Digne Allora, per quanto riguarda la difesa, Digne è il punto debole, debolissimo Non è scarsissimo, però comunque ha poco, ma poco poco fisico Ha un posizionamento davvero scabroso Però dai, non è scarso e non è male appunto Non ho messo cliché perché costava un pochino di più E è buona Comunque questa squadra è una NLV Ovvero No Link's Wasted Ovvero una squadra che presenta per ogni giocatore il minimo dell'intesa Per esempio, se io levo a un giocatore una linea verde e gli metto una linea gialla Quel giocatore ha 6 d'intesa Vabbè, avete capito, insomma Ogni giocatore ha il minimo dell'intesa Tipo Digne, ora dovrebbe avere, per essere No Link's Wasted Due gialle o una verde e una rossa Spero vi avete capito Primo difensore è Mathieu Allora, Mathieu mi è stato presentato molto bene da altri utenti Mi hanno detto, guarda, Mathieu è davvero forte Prenditelo perché è illegale Bene, me lo sono preso e a dirvi la verità non è che mi sia piaciuto moltissimo Ecco 76 di velocità, comunque 82 di difesa, 81 di fisico Non male, assolutamente non male L'anno scorso Mathieu era un giocatore con 69 di colpo di testa Con il cambio di statistica è migliorato sensibilmente Quindi, non male Purtroppo i Warcraft sono quello che sono Lascia molti buchi Molti, molti Quindi, però, insomma Non è neanche malissimo Malaccio Nei colpi di testa è forte, davvero forte Perché è comunque alto in 92 A destra Castanna Anche lui l'ho usato davvero molto Praticamente in quasi tutte le squadre che ho utilizzato 71 di velocità, 84 di difesa, 81 di fisico Castanna mi è piaciuto davvero molto Peccato che sia così basso Però, a dirvi la verità, in gioco non si nota tanto Però è un 84 La velocità è buona, molto buona Il colpo di testa anche non è male per niente E la difesa è ottima, ottima E i Warcraft altrettanto A destra Abbiamo Mykon Mykon Insomma, è un giocatore davvero completo Mi ha costato 4000 crediti Niente male, neanche lui È un solito Gran bel giocatore 78 di velocità 78 di dribbling 80 di fisico Comunque Mykon ha davvero una bella stazza Presenta una strength Niente male Buon tiro comunque che per un terzino Non è da stato valutare Poi, ottime statistiche di difesa E appunto, come ho appena detto Buon passaggio e buona velocità Cdc Che abbiamo? Abbiamo Jorginho E vedrete poi perché ho messo Jorginho Allora Giocatore brasiliano Naturalizzato Italiano Diciamo che l'ho messo lì per Per Inteso più che altro Perché comunque non è ottimo Però fa il suo dovere 450 crediti sono abbastanza Un giocatore abbastanza Abbastanza completo Di certo non è proprio la sua Posizione naturale Quella di cdc Però comunque In questo modulo Dove i cdc sono Molto larghi Va Va perfettamente Comunque 79 di velocità Per un centrocampista Non è per niente poco E vabbè Buona stazza Buoni worket E vabbè Non è un giocatore Normale Qua abbiamo invece Diarra Che comunque potete vedere È infortunato Diarra Mi è piaciuto Dai È un giocatore Che ci mette grinta Se possiamo dire così 78 di velocità 80 di difesa Comunque queste due statistiche Fanno di lui un ottimo cdc Buonissime worket 400 crediti Li vale tutti ragazzi Ma davvero tutti Mi è piaciuto È un giocatore Che comunque pressa Molto l'avversario Buona aggressività E ve lo consiglio Coc invece Che abbiamo Abbiamo Witzel Witzel L'ho adorato Su FIFA 14 Anche su FIFA 15 Si prendete davvero Davvero ottimamente Con tutte le statistiche 70 più 71 di velocità 73 tiro 77 passaggio 83 dribbling 74 di difesa E 80 di fisico E 4 stelle massabilità Quindi è un giocatore Che può giocare Sia cc Ottimamente Sia cdc Ottimamente E sia coc Ottimamente Se partite 3 gol Davvero forte È un giocatore agile Veloce Mi è piaciuto Poi pagato davvero poco 2100 crediti Comunque Contiamo anche il cambio ruolo Qua invece abbiamo Dumbia Mamma mia ragazzi Dumbia Cioè È fenomenale 93 di velocità 82 di tiro 82 di dribbling Quello che ci interessa Spassaggio neanche tanto Perché Questo modulo I cc Sono Sono attaccanti aggiunti Ecco Chiamiamoli così Però Sono attaccanti aggiunti Però Sento di dirvi Che è un po' sprecato In quella posizione Perché non gli arrivano Molti palloni Arrivano più che altro A La punta Che vedrete E a A Witzel Però L'ho pagato Anche parecchio Cioè 11500 crediti È un prezzo Che comunque È preobiettivo Almeno per Per adesso Per tanta gente Quindi via Ovviamente Si abbasserà 6 partite Un gol Pochino Pochino per lui Però 4 stelle Piederebole 4 stelle Mossa vita Niente male L'altro cc Invece È Mertens Mertens Mi ha Entusiasmato Se così si può dire Come Dumbia Un giocatore Che Si presenta Praticamente Come il Livoriano Le statistiche Diciamo Più da C.O.C. Un dribbling Magari migliore Buonissimo passaggio Buon tiro E ottima velocità Aggiungiamo 4 stelle Piede debole 4 stelle Immostabilità Abbiamo un giocatore Davvero agilissimo Buon tiro Buonissimo passaggio Ve lo straconsiglio Ragazzi Non solo per questa squadra Ma anche per una serie A Cioè davvero Davvero forte Poi 7000 Crediti Sono Abbastanza pochi Per un giocatore Che Comunque Farà la differenza Davanti chi abbiamo Abbiamo la bestia Rondon Salomon Rondon Guardate le statistiche 6 partite 14 gol Ma perché questo giocatore È fenomenale Mamma mia Quello che Poi Dunque sul mio canale Uscirà una recensione Di Rondon Ma adesso me ne parlo Quello che mi sorprese Di Rondon È il dribbling Perché comunque Si presenta con una statistica Neanche tanto alta 76 Non è tantissimo Però abbiamo 4 stelle emossabilità 8 toni di velocità Mi ha sorprese Tantissimo Ma tantissimo Il dribbling Perché è ottimo Ma è ottimo Poi È molto più agile Di quello che mostra In carta Comunque statistica Anzi è andati su Footed A 66 di velocità Comunque Giù di lì Ragazzi È mostruoso Mostruosa Un fisico Che ha Mamma mia 90 più di strength Tipo È un tiro Fenomenale È una finalizzazione Ottima È un giocatore Fantastico Quindi 4 stelle Piede debole E 4 stelle Mossa abilità Pagato Poi comunque 13.000 credit Che Cioè Più Mamma mia Ragazzi È fenomenale Non ho altre parole Non me ne vengono Quindi Non prendetevela E ragazzi Questa è la squadra È un L È un L Un N LV Con circa 5 leghe Mi pare 4-5 leghe 6-7 Nazionalità 6-7 no Però Più o meno Un'ottima squadra Un'ottima squadra Ho patito di più in difesa Che in attacco Che comunque È un attacco Gol proprio Rondon Poi è un finalizzatore Incredibile E nulla Non costa Sui 30.000 Crediti 40.000 Però ragazzi Li vale tutti Li vale davvero tutti Una squadra Con cui Sì Potete prendere Tanti gol Una partita Ma nel Nel contempo Ne fate 50 Cioè Ne prendete 49 Ne fate 50 Quello è importante Fare sempre Un gol in più Dell'avversario Io vi saluto Da Faccio